Barletta si candida a capitale italiana del Libro 2022, il prestigioso riconoscimento istituito dal Ministero della Cultura per promuovere esperienze virtuose a sostegno della diffusione dei libri e della lettura. Il dossier redatto dall'amministrazione con il supporto delle associazioni, delle università e degli istituti di ricerca aderente al patto per la lettura della città di Barletta è stato presentato nel Palazzo della Marra. È stato un lavoro molto meticoloso in realtà perché abbiamo cercato comunque di convogliare i progetti di tutte le attività delle librerie, delle associazioni appunto che hanno presentato la loro idea di come Barletta avrebbe dovuto rispondere alla candidatura per capitale del Libro 2022 e quindi abbiamo cercato di non tralasciare nulla, nessun aspetto che però ovviamente fosse anche proiettato in qualche modo al futuro e quindi all'innovazione, non tralasciasse per esempio la sostenibilità che sono dei punti cardini appunto dei progetti e del dossier che poi abbiamo redatto insieme e quindi crediamo che fondamentalmente insomma nel nostro piccolo siamo riusciti a realizzare un bel lavoro che potesse dare a Barletta sicuramente un nuovo lustro e una nuova luce appunto attraverso la quale puoi apprezzare appunto la nostra città. La città promossa capitale italiana del Libro riceverà un contributo dal Ministero della Cultura pari a 500.000 euro per la realizzazione del progetto. Le iniziative confluite nel dossier garantiscono dall'amministrazione cittadina avranno un impatto positivo e duraturo sulla promozione della lettura. Abbiamo immaginato un percorso mettendo insieme i vari progetti, i vari eventi già sviluppati in questi anni e aggiungendo delle iniziative che fossero come dire di ampio respiro e potessero poi superare il 2022, crescere e diventare forte sul territorio. Tra queste abbiamo ad esempio la residenza letteraria di Montaltino dove pensiamo di coinvolgere scrittori italiani e non che possano venire ospiti nella nostra città e raccontare poi la nostra città. Abbiamo il progetto delle reti delle biblioteche che coinvolge la Sabino Loffredo con tutte le biblioteche delle scuole e quindi una rete che metta insieme tutte le biblioteche in modo tale che possano soffruire non solo dagli studenti ma anche dai cittadini. Abbiamo progetti nel campo del sociale, i temi sono quattro, promozione, innovazione, inclusione sociale e promozione della lettura. Cerchiamo di costruire una visione nuova della città partendo dai libri e dalla cultura.